Il bilancio è positivo per tanti aspetti, non piace mai perdere una finale, ma lo sapevamo già dall'inizio. La nostra partecipazione è decisa un po' all'ultimo momento, è perché abbiamo pensato poi che non partecipare, rimanere un po' fuori e voleva dire perdere completamente i contatti con quello che è il mondo dello sviluppo della vela e di quelli che sono tutti gli aspetti dei contatti, perché poi come tutti sappiamo questo è un circuito e quindi essere presente fa parte di essere fuori, non è che poi rientri a pieno titolo anche per quello che riguarda la capacità di poter avere delle referenze, di essere riconosciuto come un team principal, quello a cui la gente aspira di venire, bisogna che tu abbia la volontà di investire sul team. Sei stato molto coraggioso a decidere di entrare in campo più tardi degli altri, sei stato coraggioso anche a scegliere uno skipper come Max Irena che in quel momento era un nome completamente nuovo. In questa Coppa America che cosa ti ha fatto vedere Max che non sapevi che lui fosse in grado di fare e se c'è qualcosa in qualche campo che ti ha deluso? Allora, innanzitutto un po' lo conoscevo, a parte che lui è un po' tipo orso, però sapevo esattamente che aveva un buon feeling con le persone, perché poi le persone vogliono vivere, anche se uno è uno skipper deve dare degli ordini, deve saperli dare allo stesso livello, perché poi c'è molta quotidianità, molta fraternità, si vive a gomito, giorni interi, mesi interi e quindi far cadere le cose dall'alto è un po' negativo. Questo senso De Angelis è troppo algido, austero? Ma no, anche Francesco a modo suo è in quel modo, è un problema caratteriale, io non farei nessun confronto con Francesco De Angelis, direi che il ciclo di Francesco De Angelis era finito e ne abbiamo iniziato un altro. Che cosa ti ha fatto vedere Max che non credevi fosse così bravo durante queste settimane e ancora c'è qualcosa che forse poteva fare meglio Max? No, in queste settimane i giochi erano fatti, quindi se vogliamo parlare di problemi, ma non si parla di problemi si parla di possibilità di sviluppare la barca, per poterlo fare nel modo corretto avevamo bisogno di un team progettuale quando diciamo team progettuale è quello che fa simulazione e continuazione di opzioni per arrivare a delle conclusioni e poi dopo mettere in pista dei manufatti tecnici che devono essere disegnati, fatti realizzati quindi certo, le conoscenze che abbiamo arrivato adesso sono tali che uno potrebbe fare degli interventi ti mancano i famosi quattro mesi, comunque abbiamo verificato per esempio con Timuzina che siamo in ottimo rapporto, loro sono cresciuti ma siamo cresciuti noi noi siamo cresciuti rispetto a Robin un minuto a regata, loro sono cresciuti 30 secondi quindi voglio dire, è sempre una scalata, è chiaro che questa scalata la puoi fare utilizzando degli strumenti appropriati fino a un certo punto, poi a un certo punto certi strumenti non sono più corretti perché ad esempio gli scafi sono troppo grossi, certe cose tecnologiche non permettono l'accelerazione in certe posizioni e si sanno quali sono, però questo fa parte del sviluppo, se uno incomincia a fare un catamarano del 72 tutte le esperienze che abbiamo fatto noi non la sa e quindi parte veramente da zero quindi questo qui diciamo che anche come esperienza vedistica è interessante perché poi bisogna vedere le cose anche sul piano così, che poi la gente parla, parla però dopo perché questi catamarani volano e perché si può raggiungere 50 nodi, siamo in pochi a saperlo Era Luna Rossa numero 4, ci sarà una quinta e il futuro è molto articolato ma nel caso ci fosse si chiamerà ancora Luna Rossa, che idea è sul futuro? No, sicuramente abbiamo deciso qualunque siano le barche, che siano monoscafi o catamarani noi parteciperemo alla quinta, poi se faremo lo challenge of record no, vedremo in base se la New Zealand vince o no, quello direi è la seconda Questa è una novità, quindi anche nel caso catamarani lo sottolineo sì? Sì, anche forse catamarani noi sì perché l'esperienza che abbiamo acquisito sulle tra virgolette barche che planano è molto interessante quindi che siano i monoscafi o che siano catamarani sicuramente la nuova generazione delle barche saranno barche plananti In questo senso hai qualche indicazione da parte di New Zealand che nel caso immaginiamo che se Oracle vince, Larry Ellison ha detto addirittura ha parlato di AC45, quindi sicuramente molti scafi ma hai già indicazioni da parte di New Zealand nel caso di Vittoria cosa è più probabile, ma o non molti? Beh, sembra sempre vedere lo stato d'animo perché poi cosa succede? Che in base a quello che è uno vince, vede che stravince sa che ha un grande vantaggio, incominciano dei dubbi di dire se cambio o non cambio vince con fatica, perde, non sappiamo cosa fanno quindi io direi che le opzioni sono al 50% adesso tra qualche giorno dopo il 15 saremo più precisi Si chiamerà ancora Luna Rossa, il nome non cambia? Sì, sì, Luna Rossa non deve cambiare, non è quello il problema non è che cambiare un nome significa qualcosa il problema di fondo è che noi vogliamo una volta tanto vedere di partire con un impegno progettuale completamente diverso perché penso che la Coppa America, ormai dopo tante Coppa Americhe abbiamo dimostrato che siamo capaci a mettere su i team, a gestirli a far crescere le barche, però quello che poi vince la Coppa America deve avere la barca più veloce Abbiamo capito che ci sarà comunque una nuova Luna Rossa con lo stesso Skipper Sì, lo Skipper è già fatto contratto, quindi a meno che lo butta via il contratto è già lo Skipper Perché lui piangeva con noi, non so se ne farò un'altra o non è vero e mentre ci diceva questo ha firmato il contratto Fa parte di quelli come Dalton, di quelli che tutti i scaramantici che ci hanno, cioè Francesco D'Angelo aveva i corni loro non li dichiarano ma ne hanno tanti di più di anno di corni Qual è stato il momento in cui si è stato più arrabbiato in questa Coppa America alla volta che si è stato più vicino alla tentazione di dire torniamo a casa? No, ormai questa fase qui l'ho superata e la conoscenza, no Devo dire che è stata facendo, abbiamo capito dove potevamo intervenire però ogni volta che toccavi un argomento dicevi, ah qui si poteva fare questo poi fai conti dei tempi tre mesi per realizzare un prodotto tre mesi per fare un pezzo insomma, la vera problema di questa prima generazione di queste barche è che lo sviluppo richiede delle conoscenze di un certo tipo è chiaro che chi l'ha fatta ora adesso a posteriori sa esattamente quali sono gli interventi ma a posteriori a priori c'è il problema di fondo di sapere esattamente come intervenire e in che tempi quindi uno può fare delle scelte anche sbagliate e quindi il problema del tempo e di poter decidere come intervenire non è una cosa così semplice abbiamo visto ora ora con quante modifiche hanno fatto nell'ultimo sei mesi e quindi è chiaro che siamo la prima generazione di barche che io sono convinto se appunto a caso facciamo ancora le barche con la C72 andiamo tutti a 50 nodi Hai parlato della nuova luna rossa, hai parlato dello skipper confermato Chris Draper è stato molto bravo è comunque un timoniere molto esperto ma sai molto bene che luna rossa con il timoniere italiano ha tutto un altro sapore ci possiamo pensare? Sì, noi per lungo tempo avevamo valutato il fatto di far timonare Francesco Bruni ma lui stesso che a aprile quando abbiamo detto deve incominciare ha detto non mi sento pronto come può essere Draper nel senso che la barca come abbiamo visto anche sui 45 la porto molto velocemente e queste barche richiedono molto molto lavoro di tanti mesi non so se due mesi è sufficiente per un timoniere di apprendere queste barche quindi è stata fatta una scelta da loro da Draper e da Bruni non da noi, l'hanno scelto loro e parte qualche partenza più bella o meno bella però le partenze poi diventano anche belle quando le fai la pari che poi acceleri e giri la boa di prima perché nessuno ha detto che Draper è peggiore del timoniere di Artemis il problema è sempre quello chi ha la barca veloce poi tutte le cose sono più facili quindi direi che è una scelta di gruppo che abbiamo accettato che non cambiava assolutamente il risultato Questo non c'è dubbio in questa settimana hai sentito Torben Grael o Francesco? Torben Grael mi ha mandato gli auguri Francesco non l'ho sentito Che cosa succederà nelle prossime settimane? Quando l'organizzazione Luna Rossa ricomincia? Confermi l'ipotesi di Trapani? È possibile? No, allora noi adesso dobbiamo vedere quello che succede chi vince la Coppa America e quindi l'opzione è questa lo dichiariamo così facciamo meno confusione che se vince in usina noi facciamo lo challenge of record avendo raggiunto dei risultati precisi con loro dei format e tante cose quindi dovremo lavorare su questo se invece vince Oracle non so chi farà lo challenge of record fatto questo l'obiettivo primario dello challenge of record con Team Uzzina e questo mi sembra una cosa comune e condivisa a pienamente è rendere, facilitare il processo della Coppa America bisogna avere un po' di modestia tornare un po' con piedi per terra e vedere un po' quali possano essere gli elementi per far ripartire la Coppa America sia sull'arrivo di nuovi challenge sia anche sul processo di comunicazione un po' più molto tecnico ma molto più aperto alle osservazioni degli altri senza essere chiusi Questa doveva essere la Coppa America della televisione il prodotto televisivo ti ha soddisfatto? Allora la qualità del prodotto televisivo lo trovo molto bello il problema è che poi questo prodotto televisivo non è stato comunicato però come qualità intrinseca di gente che ha fatto dei ripresi televisivi le trovo belle il problema è che non è arrivato a nessuno Non mi hai detto quando ricominciai il lavoro del team se era parlato di una base italiana ci sono delle idee? Ci sono delle idee adesso stiamo valutando e tutto dipenderà molto da se saranno catamarani o monoscafi e quindi diciamo che noi facciamo un periodo di retainer con i nostri equipaggi e ripartiremo da gennaio È ovviamente presto per tutto quanto ma in questi anni hai cambiato molte volte lo yacht club di rappresentanza hai girato per il terreno, sei finito in Sicilia abbiamo notato l'assenza del presidente del circolo negli ultimi giorni di regata so che va la Palermo-Montecarlo però ci suona che non hai deciso ancora il prossimo club Non l'abbiamo già deciso e sarà sempre Palermo Confermi il 100% quella sarà la prossima e ci sarà quindi evidentemente anche Bruni lo immaginiamo Certo Sarà più palermitano di lui più palermitano di lui ma vedremo un po' Certamente il problema del timoniere il fatto è che Bruni non aveva fatto il circuito né prima degli extreme 40 che ha vinto il Draper e né negli 45 quindi lui si è riservato poi sempre di decidere un po' questa posizione quando poi è stato chiamato alla chiamata lui con Draper hanno deciso di fare in questo modo non sarebbe cambiato molto ovviamente cambiava qualche cosa quella partenza la faccia meglio uno di un altro ma insomma non credo che questo sia significativo La prima Luna Rossa è stata quella dell'entusiasmo del miglior risultato la seconda quella della delusione con la barca proprio che non andava alla terza forse l'hai sentita meno tua in quanto c'era un matrimonio nella sponsorizzazione al 50% questa quarta come la collochi nella tua storia? Nella mia storia questa qui la colloco come la prima nel senso che è sicuramente una Coppa America molto fatta di slancio con una grande partecipazione di tutti quanti facendo doppi lavori e tripli lavori ma anche la terza è stata una buona Coppa America non è che mi sentivo assolutamente diciamo che la terza probabilmente c'erano troppe rigidità progettuali verso l'indirizzo senza essere attenti ad altre opzioni si potrebbe discutere ma questa qui fa parte della Coppa America però la qualità del lavoro basta vedere che c'era Spitil e basta vedere che Oracle quando è ripartito a fare la Coppa America ha assunto 30 persone in una rossa non è che ne ha assunte due, 30 quindi il fatto che ha scelto 30 persone in blocco di cui Spitil è ancora lì Falcone, Nobile e così sono ancora lì tanta gente quello dei CFD e via via Caponetto dice lunga su questo aspetto qua quindi direi la mia osservazione generale così poi dopo sono quelle cose che valgono quanto è che se io faccio una somma del mio impegno nella Coppa America direi che il risultato finale è che abbiamo creato una scuola di velisti italiani questa è l'unica cosa che si deve dire perché poi abbiamo una scuola di velisti italiani in senso lato non solo di timonieri per la gente si pensa ai timonieri ma non è quello solamente devi pensare a tutte le persone che sanno fare tecnica a disegnatori, ai progettisti a persone che lavorano il nostro amico che lavora con la Nuova Zelanda Vittore che lavora con la Nuova Zelanda Vittore ha cominciato con noi poi si è stabilito definitivamente a Nuova Zelanda Belgrano che ha cominciato con noi e così via quindi si è formata una scuola di italiani che sono al tope delle loro specifiche attività che sono di vario tipo tecniche, elettronica e quant'altro quindi trovo che questo qui è un grande risultato in questo momento se uno vuole parlare basta pensare che da ora qui sono solamente due americani e basta i due gruppi più grandi che possono dare sono Nuova Zelanda e l'Italia probabilmente poi c'è la Francia e poi siamo lì quindi evidentemente mentre prima con Azzurra l'Italia era la Cinerentona una cosa impropria cosa proprio un po' così adesso noi possiamo parlare di persone strutture come Persico che fa gli scafi del giro del mondo quello di Vittore come si chiama Cariboni che fa insomma una marea di gente che lavora al tope della categoria che questo viene sempre un po' dimenticato mentre invece io trovo che questo qui è un argomento molto importante quindi Luna Rossa ha creato un mondo di appartenenze un motus che ha rivitalizzato fortemente il settore dell'anautica della tecnologia e delle competenze di varia natura l'unica cosa che non abbiamo ancora portato a casa è la Coppa America e comunque per portare a casa la Coppa America ci vuole come ti posso dire ci vorrebbe anche un paese ma non un paese non è un'osservazione nei confronti di qualcuno di un paese velistico che accompagna questi processi e che mi sembra che è ancora un po' troppo lontano da sentire che potrebbe essere veramente anche sul piano economico un risultato molto grosso per la Coppa America la Coppa America rappresenta l'1% dei PIL e per loro rappresenta una forte idea di appartenenza velistica tale da incrementare le vendite delle barche grandi che loro producono per gli armatori europei e quindi anche quello dovrebbe essere vissuto a questo modo ma io trovo che in Italia le condizioni della gente che lavora sono più che positive bisogna trovare il modo esempio fai la Coppa America a Nova Zelanda la squadra neozelandese viene fatta l'esenzione fiscale vai in Spagna e fanno una legge speciale per le squadre di team di Coppa America e gli fanno l'IRPE e gliela fanno pagare la metà bisogna un po' avere questi tipi di atteggiamenti culturali che sicuramente è assurdo che la gente straniera deve pagare l'IRPEF come un operario italiano sono quelle cose che poi tanto poi i soldi non vanno a finire da nessuna parte insomma ultime domande velocissime una a proposito dell'economia mondiale nessuno meglio di te può saperlo visto che il lavoro che fai sostanzialmente la tua percezione è che il peggio sia passato e anche la consitudine che hai con altri proprietari di altri marchi importanti se sta parlando di un ritorno potrebbero essere parecchi concorrenti alla prossima Coppa America o no? Per me ho fatto una suddivisione per spiegare delle persone la differenza dei catamarani rispetto a monoscafio i catamarani li devi aggregare a uno sport estremo quindi gli sponsor possono essere solamente di sponsor tipo la Bud De Bull e quant'altro tanti altri sponsor questa categoria di sponsor non so quanto si rivolgono a un mercato del lusso cioè di gente che spende per fare le barche da 10 milioni di euro in su la categoria dei monoscafi emula più l'idea di una barca che è più vicina a un consumatore che spende bisogna riconoscere anche dei fatti da barca nuova degli anni 90 bisogna dirlo sono state le barche disegnate da Bassani e Walli sono state delle bellissime barche che hanno aperto una strada di un certo tipo di barca che è stata emulata poi dopo se il cantiere andava bene è un problema che non ci riguarda però l'impostazione di quella barca ha aperto un nuovo strado della canteristica io penso che bisogna aprire un'altra strada nuova ancora più nuova sulla canteristica del monoscafo che può attirare la nuova le persone che sono stanche di vedersi addosso delle barche strutturalmente e culturalmente vecchie e quindi questa è l'evoluzione del mondo della moda quindi come la moda si evolve come si evolvono i palazzi come si evolve l'abbigliamento come si evolve il costume di vita l'abbiamo visto in questi ultimi cinque anni tutti quanti andavano a mangiare il giapponese che nel 1980 io mangiavo il giapponese perché vivevo tre mesi all'anno in Giappone e nessuno mangiava il giapponese adesso si parla solo di sushi e sashimi quindi bisogna vedere il problema sul piano del costume il costume della vera non può essere legato alle barche vecchie quelle sono barche storiche ci bisogna fare il passo successivo e certamente Catamarano è forse un passo molto lungo e per un pubblico diverso bisogna trovare il modo di fare una barca che sia più vicina ancora che abbia delle performance scenografiche e di velocità perché la velocità è quella che interessa ma al tempo sia emulativa del sogno dell'appartenenza ce l'hai un nome in mente una barca in mente un tipo di barca che risponde a queste caratteristiche che hai descritto? ma insomma comunque se uno si se uno pensa ai vorre le barche del giro del mondo rese adatte alla Coppa America io trovo che sono delle barca interessanti un'ultima domanda sei stato poi a bordo della C-72 ce l'hai fatto un giro? sì me l'hanno fatto fare un giro piccolino non ti sembra assurdo che l'armatore non possa nemmeno salire è talmente pericoloso che l'armatore non ci può salire? no ma io ci potevo salire ci potevo anche fare le regate non è il problema no non è non è il problema di essere l'armatore un armatore è un problema che diciamo che l'incidente che è successo la grave situazione che si è creata era il 10 di maggio? il 9 di maggio ha un po' creato una instabilità psicologica basta pensare che noi siamo partiti in Ozil sono partiti prima di noi che hanno fatto una barca che doveva funzionare da 20 a 30 nodi e poi la media delle regate siamo a 15 se uno sapeva che si facevano i regate sui 15-16 nodi la barca poteva essere sicuramente fatta a modo diverso quindi io trovo che in sostanza il problema che la situazione lì ha creato un disagio psichico-mentale di troppe persone che poi allora l'armatore e l'ospite non ci può essere quella non ci può essere tutta una serie di situazioni che poi hanno bloccato mentalmente psicologicamente e quelli che ci andavano sopra la paura della velocità io ora domanda te se adesso qualcuno di questi ragazzi ha paura di andare a 45 nodi nessuno ha paura davvero l'ultimissima ci stanno aspettando tutti questa è stata la prima scusa l'ultimissima Patrizio l'ultimissima questa è stata la prima l'ultimissima riguarda la famiglia per la prima volta ci sono stati i tuoi figli più convolti hanno seguito da vicino le regate una era di tutta parte del team pronta la seconda generazione vedremo sentiamo quello che vogliono fare adesso intanto stanno a guardare il virus ha attecchito anche di loro dalla Coppa America probabilmente sì qualcuno si bravigliamo nel seguire cosa vogliono fare